Bella raga, vi piacciono queste scarpe? Eh? Quanto sono belle! E sapete di chi sono queste scarpe? Queste bellissime scarpe zebrate! Sono di Katia Brivio! E sapete che cosa sto per fare? Ne sto per mettere in vendita! E sono anche le sue preferite! Oh, scusa Katia, non lo sapevo fossero le tue preferite, scusami! Comunque, sto per mettere in vendita queste fantastiche scarpe di Katia Brivio. Per chi volesse acquistare questo fantastico paio di scarpe zebrato, taglia 36,5, può andare sull'applicazione Spock! E le potrà trovare ad un prezzo vantaggiosissimo e sarà di 20 euro! Ok, eh? Due secondi... Opla! Facciamo la foto... Cosa vendi? Cosa sto vendendo? Scarpe! Descrivi le... Scarpe... Zebrate... Di... Katia Brivio... Seleziona una categoria... Abbigliamento e accessori... Euro... Prezzo 20... Perfetto! Cioè, facciamo anche un'altra foto di un'altra angolazione... Boom! Bomba! È semplicissima questa applicazione... Venti... Bubi! Cosa stai facendo? Ciao Katia! Come stai? Cos'è che stai facendo? Eh... Niente... Cosa c'è? Perché stai facendo un video da solo senza di me? In seguito... Niente... Perché? Perché hai lanciato le mie scarpe? Perché... Guarda qua... Eh? Cos'è? Ti piacciono? Sono le mie scarpe? Eh sì... Perché hai fatto una foto... Cos'è? Cos'è? Eh... Le ho messe in vendita... In che senso le hai messe in vendita? Aspetta, allora ti faccio vedere... Guarda... Ma in che senso hai messo in vendita le mie scarpe? Ho trovato questa nuova applicazione dove puoi mettere in vendita... È tipo mercatino dell'usato... E io ho messo in vendita le tue scarpe... Perché ne hai troppe? Dai! No! Luca! Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Bene raga... Se volete comprare le fantastiche scarpe di Katia Brivio... No! Le trovate su... Spock a 20 euro! Voglio proprio mettere... A 20 euro! VENTI EURO! Chi se giudicherà queste scarpe voglio una selfie fantastica... Ma bellissima... Con le scarpe... E niente... E prenderemo un paio in giro Katia Brivio... No Luca! Piano piano metterà in vendita su Spock altre scarpe... Perché abbiamo uno scaffale pienissimo, ok? Non dire cavolatele! Adesso le devi togliere subito Luca! No! Non posso! Non posso! Si che puoi! Non posso! No! No raga le mie scarpe no! No! Non puoi Katia! No dai! Poi a 20 euro! Ma sei pazzo! Davrò pagate milioni di euro quelle scarpe! Milioni! No! Ma le mie scarpe preferite! Non urlare! Non urlare! Dai ci sarà già qualcuno che le starà cercando! Raga non comprate le mie scarpe! Guarda qua! Fanno tutte offerte! Che cosa potevo vendere? Le scarpe a 200 milioni di euro! Che cosa faccio? Ma ti pare? Sono tutte offerte! Mercatino dell'usato! Katia! Comunque! Scaricate Spock! Comprate le scarpe di Katia! Mi paremmeno di avere il momento che sarà il prima a giudicarsene! Ok? 20 euro! Uuuuuuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Sta arrivando! Uuuuuh! Uuuuh! Aia! Ah! Cazzo! Luca?! Aia, un piccetto da testa!